ciao a tutti inesini siamo qui in un nuovo video e oggi ho tre nuove blind box stupende da aprire insieme a voi queste le ho prese su aliexpress su uno shop sono originale ovviamente questo qua è lo shop aven rabbit e sono queste tre serie non avevo mai visto questa marca si chiama simontios non so se l'ho letta bene comunque ci sono queste dolline e questi personaggi ispirati alla cultura egizia in più mi hanno mandato come omaggio questi tre gattini che ho messo qua sopra sono molto carini cicciottini e veramente adorabili quindi abbiamo questo poi c'è questo qui col pavilion è adorabile e poi questo qua arancione leggermente sporco qui ma il resto perfetto quindi iniziamo allora queste costano un po sui 13 14 euro l'una se non sbaglio però sono più grandi delle figure che apro di solito sono un po più grandi insomma inizierei da questa che mi incuriosisce tantissimo io adoro il la cultura egizia e allora questo si chiama haru garden e appunto queste sono le figure che possiamo trovare è tutto scritto in giapponese quindi non ho idea di che nomi gli abbiano messo comunque abbiamo appunto questi simil uccello questi qua simil cane gatto e poi questi qua e questo è il misteri sono tutti molto 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 belli e sembrano estremamente dettagliati quindi andrei insomma a vedere qua mi fa vedere insomma che c'è il marchio originale e quindi apriamolo allora c'è l'apertura facilitata qui sotto stavolta non sta sopra ma sotto ci sarà la card che noi non andiamo a vedere ci sono addirittura i geroglifici sulla bustina ma che spettacolo belli 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 e fantastico andiamo a vedere chi ha trovato mamma mia che belli sono troppo belli questi guardate che spettacolo no vabbè lo adoro cioè guardate che meraviglia aspettate lo faccio vedere anche al mio ragazzo veramente spettacolare allora anche a lui è piaciuto tantissimo era quello il suo preferito tra tutti e pensiamo sia ispirato a set sembra abbastanza somigliante insomma e è veramente di una perfezione che io raramente vedo nelle figure la marca è questa qua toys comic ed è spettacolare cioè non ho parole troppo bello veramente veramente fantastico guardate anche la coda è fighissimo sì le zampe sono proprio da cane quindi dovrebbe essere set bello 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 e dentro troviamo anche la card che è questa spettacolare adoro e basta allora questi erano gli altri per l'appunto ne abbiamo trovato questo qua non so se c'erano rarità particolare a parte questo che è il chaser fatemi sapere nei commenti quali avreste voluto trovare voi e qual è il vostro preferito e appunto se avete riconosciuto a chi sono ispirati i vari personaggi bene 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 questo è spettacolare poi passiamo a queste allora queste quasi chiamano liroro sono vi faccio vedere bene la scatola eccolo qua simons toys appunto e qua ci sono i vari personaggi più due misteri e sono tutte veramente spettacolari otto più i secret appunto allora ve le faccio vedere bene questa qua è ispirata all'unicorno che era molto carina ma sono tutte belle veramente cioè spettacolari e andiamo a vedere appunto chi troviamo noi mi si è aperto un mondo quando ho iniziato a navigare un po su aliexpress con tutte queste nuove serie fatte benissimo veramente benissimo di blind box quindi ve le straconsiglio se vi piacciono andatela a cercare su aliexpress allora andiamo a vedere non guardo se c'è la card o meno è protetta da un involgro di plastica dentro ok abbiamo trovato questa molto carina è sull'arancio e rosso qua c'è la base e c'è un piccolo scettro a forma di credo scogliattolo ora la vado a tirar fuori e qua c'è la sua carta anche qua scritto in giapponese quindi non ho idea di cosa ci sia scritto comunque è veramente carina fa pensare un pochino a card captor sagora un minimo comunque la tiro fuori e vediamo com'è allora eccola qua ma quanto è carina è adorabile sono indeciso se è una volpe o uno scogliattolo ditemelo nei commenti da qui potrebbe essere entrambe le cose anche le orecchie mi sembrano un po da volpe però non ne sono sicura fatemi sapere nei commenti se secondo voi è ispirata a uno scogliattolo o a una volpe è adorabile anche gli occhi sono dipinti benissimo vi faccio vedere nel dettaglio anche qua il vestito ha il mantello l'acconciatura è carinissima e i capelli sono sfumati dall'arancione più scuro a più chiaro è adorabile troppo carina veramente bella adesso vediamo l'ultima allora questa qua si chiama rui spero di averlo pronunciato bene come serie sempre di simon toys e anche qua ci sono varie bamboline eccole qui tutte molto carine più pure qui ci sono alcune secret che non so quali siano sono troppo 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 pucciose e sono ispirate queste qua un pochino allora queste sembra tipo più maghetta invece queste sembrano più elfi del bosco carinissime andiamo a vedere chi trovo ah questa non so se avevo fatto vedere la carta comunque eccola sì mi sa l'avevo già fatto vedere vediamo chi trovo qui proprio quella sulla scatola abbiamo trovato eccola carinissima allora eccola qui ma quanto è carina e adorabile no vabbè c'è troppo carina guardate a sull'acconciatura queste piume dal rosa al celeste qua c'è un fiore tipo fiore di loto non so le orecchie sono a forma di ali poi le braccia sono a forma di ali e qua una specie di coda e qui sul vestito delle nuvole simboli di nuvole insomma è troppo troppo carina veramente adorabile e questa è la sua carta eccolo qua cioè io li adoro sono troppo belli non so che dire veramente sono tutti stupendi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito e insomma se vi piacciono queste nuove blind box che sto aprendo che sono un po' misconosciute nel senso non ho visto nessuno che l'aprisse però sono davvero spettacolari e niente io l'adoro questo qua è fantastico mi piace troppo fatemi sapere nei commenti che ne pensate se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale restai sintonizzati per nuovi video e noi ci vediamo alla prossima un bacione ciao ciao ciao